Allora, oggi Anto l'ospite è padre Giuliano Stenico. Tu hai mai provato a googlare padre Giuliano Stenico? Ho provato, ci volevano almeno tre schermi per poter vedere tutta la trafila di cose che ha fatto. Cosa ha fatto quest'uomo? Già nell'82 ha fondato il CEIS, centro solidarietà di Modena. Oggi il CEIS gestisce 40 strutture sul territorio, socioassistenziali, terapeutiche, educative. Si aggiungono numerosi servizi che si occupano di dipendenza patologica da sostanze e non minori, migranti, formazione, prevenzione, spazi di ascolto, disturbi alimentari, psicopatologici e psichiatrici, nei quali lavorano più di 500 dipendenti ai quali si affiancano un centinaio di volontari. È stato direttore dell'Istituto Tognolo, tuttora docente. Quando parliamo di Giuliano Stenico parliamo di un processo educativo che si fa persona. Ma noi di tutta questa roba che ha fatto non ce ne frega assolutamente niente perché oggi la nostra curiosità è sapere chi è l'uomo? La persona. Chi è la persona dietro la figura che tutti conosciamo di padre Giuliano Stenico? Sigla. Com'era Ria? Sì, la prima parte la rifarei. Tu sei senza foglio adesso. Padre Giuliano Stenico. Perché ridi? Perché lui non l'ha sentito con le cuffie, ma quando io ho schiacciato c'era un applauso. Un rumore qua, dico bocca. C'era un applauso, guarda, lo rimetto. Dove sei nato? In un paesino che si chiama Gazzadina che è del comune di Trento. Quanti anni mi faceva questo paese? Ah, 200, adesso ne fa 800. Bellissimo, 200. 800 perché... Ma conosci ancora qualcuno? Sì, qualcuno, persone anziane, sì, le conosco. E anche persone giovani. Siccome è a 450 metri sul livello del mare e Trento è 198, c'è una bella differenza. Per esempio, l'estate c'è la cosiddetta ora del Garda, che è un vento che viene dal Garda probabilmente, che fa ventilazione tutta l'estate, dalle due del pomeriggio alle sei, sette di sera. Sembra pensato. Sembra proprio... Costruito proprio. Sembra proprio pensato, per cui sì, è una zona adesso che le case costano molto di più che in centro città. Mentre ai miei tempi le case non valevano, valevano molto poco. I negozi, ti ricordi? Tipo il panettiere? Allora, è chiaro che il... è questo che voglio dire, che i negozi erano un punto di riferimento, di condivisione della vita sociale, per cui tu andavi dal Lattaio dicevi ciao, andavi in bottega dicevi ciao... Ti ricordi il nome del Lattaio? Che lo salutiamo. No, non mi viene il nome del Lattaio. Era inglese, si chiamava Milk. Poi c'era la bottega che vendeva un po' di tutto, con un particolare, che in bottega tu avevi il tuo libro, il tuo libretto. Quindi non pagavi subito, ma pagavi quando potevi. Questo era un sistema per favorire i consumi, ma senza la necessità di esibire subito il denaro. Nel caso della mia famiglia non era così perché mio padre era autista, di camion piccoli, che però questo gli consentiva di avere il liquido sempre, per cui io mi sentivo rispetto alle altre famiglie, non dico ricco. Fortunato. Benestante. E quindi in questo paese come si divertiva un bambino di 5 anni? Era una cosa fantastica. Stupendo. Perché i genitori ti fissavano le regole dell'entrata e dell'uscita, poi non venivano a vedere quel che facevi. Tutti i bambini si organizzavano da sé, l'importante è che non facessero dei grossi casino. Per esempio, noi organizzavamo i giochi, per esempio Guardia e Ladri, e l'ambito era quello di tutti i boschi attorno al paese, perché facevi dei chilometri a giocare. E quando ho visto delle persone che giocavano a calcio… E tu preferivi fare la guardia o il ladro? Ah beh, tutti e due i ruoli. Non avevi una predilizione? No, no, tutti e due i ruoli. La cosa bella è che i genitori non erano assolutamente in tensione per questo. Se ti facevi male, ti guardavano, io sapevo che se tornavo a casa con le ginocchia sbucciate dovevo stare attento a non far vedere il sangue perché le prendevo. Quindi la resilienza era di quel genere, no? E cui dovevi… E quindi mi ricordo che quando vidi gli scout mi dissi, io negli scout non entrerò mai più. Poi ha fatto qualcosa come 34 route, quindi penso di essere uno degli assistenti di scapola… Che cos'è la route? La route è una settimana che gli scout fanno camminando tutto il giorno, gli scout dalla seconda superiore all'università, in montagna normalmente. Comunque il principio è che deve avere tutto nello zaino. Questi qua avevano i capi che gli insegnavano a fare i rifugi, no? Con le frasche. Ma io era una cosa che facevo sempre nel bosco. Addirittura noi facevamo le gare a fare il percorso più lungo passando da un albero all'altro senza scendere. Poi succedeva, per esempio, a me succede una volta che sono caduto e sono finito in un rovaio. Chiaro, dove se no? Quando si cade da un albero, se no in un rovaio. Allora mi sono detto, ma questi qua sono proprio cretini perché hanno bisogno di qualcuno che li istruisca a fare quel che noi facciamo liberamente. Mi sono detto non riscavo mai più. Cioè in quegli anni lì i contadini erano in Italia 8 milioni, adesso sono 800 mila. Nei servizi praticamente non c'era personale. La struttura della società era completamente diversa, semplice. Quindi tu, anche un bambino, la capiva come era strutturata. Operai, contadini e colletti bianchi che erano gli impiegati. Punto. Qual era uno dei tuoi piatti preferiti? Ah beh, la polenta e gli uccelli, la polenta e i conigli. La polenta e i conigli è la celebrazione domenicale, nel senso che noi avevamo l'allevamento di conigli, quindi molto buoni. È chiaro che i gusti da allora non sono lontanamente paragonabili a quelli di oggi, perché era tutta cosa che veniva direttamente dalla coltivazione tua. Noi avevamo l'orto, avevamo l'allevamento di canigli, le galline. In particolare l'allevamento di conigli era affidato a me, ma a sette anni stavo dietro ai conigli. Quindi andavo nel bosco a prendere il necessario per mangiare, che erano poi spine di acacia, che erano gli acaci, perché per i conigli hanno le foglie molto buone e soprattutto possono masticare la corteccia che gli serve per curare i denti. Rimanevano i bastoncini tutti bianchi, era bellissimo vederli. Poi dove pulire le gabbie e così via. Ti hanno mai aggredito i conigli? No, no, no. Imparavi a voler bene gli animali, per quel che sono. Io avevo le viti, noi sotto le viti andavamo a zappare via l'erba. Arrivavano i merli e facevano il nido sul ramo della vite. E mio padre mi insegnava, voi non andate a zappare sotto gli alberi dove c'è il nido, perché disturbate il merlo che sta covando. E poi guai a voi se toccate le uova. Il merlo, la merla sente l'odore e abbandona i piccoli. Ah, non riconosce più. Non riconosce più. Quindi tu non lo fai, tu non vai a toccare. Infatti quelli che andavano a rubare le uova in giro dai nidi erano profondamente detestati. Mio padre era cacciatore ma osservava rigidamente le regole dei tempi della caccia, chi puoi ammazzare e chi no. Quindi c'era tutta una diciamo un'educazione, un rapporto con la natura di rispetto. Io avevo la mania di costruire la casa, dovunque andavo. Per esempio, quando si raccoglievano le pere e le mele c'erano le casse. Allora le casse vuote le adoperavo per costruirle una sopra l'altra la parete, sopra il tetto e dentro facevamo la casa, l'angolo cucina e così via. Ma in scala reale? Sì, sì, in una scala reale. Quindi tante cassette per creare? Certo, tante cassette. Quindi un costruttore di case? Eh sì, così avevo questa... Ti è rimasto, hai costruito altre cose? Sì, forse. Bellissimo. Erano tutti giochi che derivavano dalla tua fantasia. Ti esprimevi, avevi delle emozioni che ti entravano dentro, che ti appartenevano e che rimangono. Quella volta che l'hai combinata grossa. Fatta la comunione, cioè eravamo vestiti a festa. Il pomeriggio io sono andato in giro, mi sono infangato le scarpe. Mio padre non ci ha visto più perché ci teneva moltissimo alle scarpe. Per me stare vestito dalla festa era una costrizione, insomma. Negli anni 70 era un'economia che funzionava. Per esempio, il mio cognato ha costruito tutto il grezzo della casa, una casa molto grande, con 7 milioni, che oggi sono 7 mila euro. Sicuramente sono più di 200 metri quadri per piano. Questo per dire il valore del soldo che allora aveva. Acquistavi molto di più di oggi. Allora avevi più margini di risparmio, paradossalmente. Sto parlando degli anni del 60, del 70, del 74. Come erano i pranzi? Non cosa mangiavi, ma che clima? Il fatto anche della narrazione e del raccontarsi. Oggi è molto più difficile un tempo anche da racconti. Era molto più facile, perché anche fra adulti e bambini parlavi di cose che sapevi, no? Le piante, la coltivazione dell'orto, gli animali, gli episodi che succedevano in paese. C'era sempre il solito tipo di paesano un po' caratteristico e allora parlavi di lui. E poi c'erano i momenti che vivevi in scena. Per esempio, nella raccolta delle pere e delle mele o dell'uva, è ovvio che erano le famiglie che si trovavano. Vedevi gli adulti in maniera diversa, nel senso che scherzavano fra di loro. Poi non so, parlavano della mamma o del papà, metterano i pregi e i difetti e scherzavano sui difetti, quelli che magari a te facevano pesantezza, no? E allora avevi il messaggio che erano dei difetti relativi. Per esempio, mia madre era una persona piuttosto decisa, no? A un certo punto chiese a mio nonno di fare il corso di sarta. E mio nonno non era molto dell'idea. E mia madre, sai cosa fece? Fece sciopero. Andò sulla soffitta, sulla parte più alta della casa, si chiuse lì e disse finché il papà non mi dà il permesso io non scendo. Sciopero totale. Alla fine mio non c'è detto. Era una che quando arrivavano gli americani a bombardare, mia nonna andava nel rifugio, invocando Maria Santissima. E mia madre andava sul tetto a vedere gli aerei che arrivavano, mi piaceva moltissimo vedere gli aerei. E io mi ricordo ancora delle emozioni di quel tempo. Le rimpiangi perché non le ritrovi più. Un adolescente invece, Giuliano, come se lo viveva il paese? Ah, è complicata questa risposta perché andrà in seminario in quinta elementare. E come funziona? Quindi tu quando eri in quinta elementare? Ho deciso di entrare in seminario. E hai deciso tu da bambino? Sì, perché tra l'altro funzionava così. Gli ordini religiosi chiedevano di poter andare nelle scuole a presentare il loro ordine. Ogni congregazione aveva un personaggio che era un prete che andava in giro a cercare, era il cosiddetto vocazionista e lo faceva lui. Un talent scout praticamente. Sì, una cosa così. Quando tu avevi detto che volevi, il padre si presentava alla famiglia e parlava con i genitori. Io gli ho detto, ma questo non veniva mai. Perché? Perché preferiva andare nella famiglia di mio cugino. Ah, ah. E che mia zia aveva la terza media, che era oggi come avere due lauree, no? Per cui poteva parlarci, intratteneva. Allora io dissi a mia madre che andasse lei dai Deoniani a iscrivermi. Cosa che mia madre fece, che mi rimproverò. Non per il fatto che andavo dai Deoniani. Mi rimproverò perché dovete andare arrestati a piedi dalla stazione di Corriere di Trento fino alla 6 Deoniani, che insomma è un po' lunga. La mia idea era quella di fare del bene. Questa era l'idea. Poi siccome leggevo una rivistina fumettistica dei Comboniani, la mia idea era di fare qualcosa di andare in Africa. Questa è la cosa. E allora scelsi i Deoniani perché avevano questo tipo di possibilità che era appunto quello della missione. Ma in quel momento Giuliano la tua scelta era legata al semplice voler fare del bene per qualcuno. Non c'era un'idea anche perché eri molto piccolo. Quanti anni avevi quando hai scelto questa cosa? Otto anni? Nove anni sì. Fare le medie significava avere alle spalle una famiglia con delle possibilità economiche. Quindi le medie le potevi fare solo se andavi in seminario. Chi non aveva? I piccoli seminari praticamente sono stati una, come dire, occasione di mobilità sociale. Quindi era vissuta come una delle possibilità, un'occasione di mobilità sociale. Poi dicevano li metto in un posto dove li educano bene e quindi c'era tutta questa… A prescindere dal fatto di continuare il percorso. E quanto durava? Fino alla teologia che finisce a 25 anni, quindi c'è un percorso non lungo di più. È ovvio che quando mi trovai in un istituto dove eravamo come bambini dalla quinta elementare alla terza media, più numerosi che il mio paese, è stata una cosa un po' anche perché ti muovevi sempre in fila e io ero il più piccolo sempre davanti. La cosa non mi piaceva granché, eccetto quando c'era la distribuzione delle merende perché essendo il primo… Tagliare l'aria era un vantaggio. Tagliare l'aria era un vantaggio in quel caso. E quindi i genitori e la famiglia tu li potevi rivedere in quei 30 giorni? Ti venivano a trovare, i miei venivano a trovarmi tutte le domeniche. Solo che io a un certo punto ho cominciato a vergognarmi e li ho supplicati che venissero ogni due domeniche, se possibile ogni tre. Perché se ti vengono a trovare tutte le domeniche vuol proprio dire che sei un bambino, sei un lattante. Sei proprio il cocco. Il cocco, non ci sta. Anche le femmine devono studiare. Mio padre diceva, beh insomma arrivano a fare le segretarie d'azienda, va bene. Mia madre dice, no, devo fare l'università. Perché devono imparare a parlare e a difendersi. Questo era il motivo, cioè era un femminista anzitempo, espressa così. Vabbè hai già dato la sua fotografia, io me la immagino sopra, che spunta dal tetto. Mentre guarda le bombe cadere. Questa fase è molto delicata per l'essere umano che è l'adolescenza, no? Tu hai passato tutto questo periodo di formazione. Com'era la percezione dell'altro sesso? Anche perché tu sapevi già che doveva fare una scelta di quel genere. Ecco. Però è chiaro che le domande c'erano. Io ho avuto la fortuna di avere degli educatori flessibili. Incontrai un dottore belga che aveva fondato Manitese e voleva fondarla a Monza, che non c'era. E chiese a me di fondare queste Manitese. Io vabbè accettai di fare questa cosa. Ero in seconda liceo, quindi ero giovanissimo, no? Raccoglievamo carta, stracce, ferro vecchio, dalle famiglie. Se tiravi sulla carta e la vendevi, prendevi. La cosa interessante è che andavi a volantinare le famiglie due o tre giorni prima. Mi ricordo di una signora che mi regalò un maglione spessissimo. Dice lo prenda, perché in Africa quando fa freddo si possono coprire. E c'erano ragazzi e ragazze, quindi eravamo insieme in questa cosa qua. E nascevano dei rapporti molto belli, di collaborazione, di affetto, di stima reciproca. Anche perché facevi quel lavoro lì. Tant'è vero che con qualcuno avevi un rapporto specifico per riuscire a organizzare, parlavi dei problemi, eccetera. Le potevi portare anche in stanza. Sì, ma non succedeva nulla in stanza per parlare, capito? Una volta la bella idea, siccome io dovevo pulire i portici del seminario, e sabato avevo lavorato, avevo poco tempo a pulire, ho chiamato le ragazze. E allora pulivamo il chiostro con queste voci di ragazze che rimbombavano. Qualcuno mi ha rimproverato dicendo che non era bello introdurre delle ragazze. Io non ci vedevo nulla di male, anzi mi sembrava una nota gioiosa, no? Portarsi le ragazze era come avere mezzo grammo di cocaina in tasca alla dogana, praticamente. Cosa hai introdotto? No, questo per dirti che il rapporto poi con le ragazze passava attraverso questi momenti. Poi è chiaro che le vedevi, gli innamoramenti, i rapporti fra di loro, tutte queste cose le vedevi, sì, ne parlavi. Però tu eri già orientato. Io ero molto orientato, sì. C'era la messa di Natale a Monza nel Duomo, frequentata, quella di mezzanotte, prevalentemente da signore impelicciate e così via. A noi sembrava una cosa in contrasto col presepe. Chiese al monsignor del posto di poter fare una celebrazione alternativa, no? Ricevavamo tutti dei report sulla situazione in Brasile, in particolare sul tipo di repressione che c'era. E mi ricordo che si diceva che gli Stati Uniti d'America offrivano gli psicologi per analizzare la struttura psicologica dei detenuti e quindi fare la tortura più adatta per aumentare la fragilità. in particolare addestraivano dei cani a addentrare i testicoli dei maschi se uscivano dalle loro stanzette. Esclusivamente il testicolo? Sì, sì. Era richiesto al cane una mira specifica? Questo per dire il terrorismo. Allora noi queste cose eravamo impegnate a diffonderle. Adesso queste persone lavorano sulla struttura degli algoritmi dei social, probabilmente, sì. Questa messa allora gli chiesi di farla. Avevo ciclostilato tutti i testi naturalmente scelti dalla Bibbia che parlavano di queste cose. È solo che il ciclostile era appunto in una stanza che dava sul chiostro, si dava sto rumore al ciclostile. A un certo punto il formatore si insospetti e dice «Cos'è che fai giù?» Perché aveva ricevuto delle telefonate da qualche prete della città che c'erano dei bioniani che organizzavano questa cosa e avevano visto le macchine della polizia in giro. Io andai in piazza davanti al Duomo e c'era un sacco di persone, sono state 700-800 persone che nessuno aveva invitato, ma si vede che era passata la voce e c'era la polizia schierata con gli scudi e i manganelli e quindi voleva fare la carica. E allora mi sono messo d'accordo, sono andato a parlare con le guardie che secondo me anche loro erano venute lì non molto motivati. Le dite «Vabbè, insomma, rinunciamo a fare la manifestazione, però stiamo davanti e quando escono le persone diremo qualche slogan». E quindi con questo compromesso le guardie se ne andarono. Poi partecipavo naturalmente ai picchettaggi una volta fecero sciopero all'Uppim e siccome erano femmine avevano bisogno di forza maschile allora andavamo lì a evitare che ci fossero i cosiddetti crumiri che erano quelli che non facevano sciopero. Quindi tu te nevi fuori gli altri? Sì. Andavi lì e te nevi fuori gli altri? Sì, sì. Quelli che volevano entrare? Eh sì, se non che naturalmente c'era la donna che si andava a confessare a uno dei nostri padri che gli dice «Oh, ho visto un seminarista che faceva picchettaggio». «Impossibile, l'altro gli dice «Impossibile, signora, impossibile». «Si è sbagliato». «A meno che non sia lui». «Giuliano, no». «Impossibile». Poi andavo alle manifestazioni di sinistra di sinistra, insomma era il tema della giustizia e ci andavo per questo motivo non perché ero d'accordo con gli slovan che si gridavano, no. «L'Oriente è rosso, l'Italia lo sarà, viva Lenin Mount Setung». A un certo punto si gira uno, il classico 68tino con alto, robusto, grande barba e mi fa «Urla più forte, reazionario di merda!» Così… Eh, allora mi son detto «La rivoluzione finisce qua». Cioè non è un'analisi dei problemi se hai trovato una soluzione razionale, era solo una grande recita. C'era una motivazione intrinseca. Molto, molto forte, su questi vari temi. Eh sì, penso le nostre… Per questo che oggi per me il tema dell'immigrazione è una cosa che mi lacera dentro perché essendo nato, impegnato con l'idea insomma dello sviluppo della dignità vedi che è tutto il contrario e tu dici «ma allora?» È una domanda che ti resta… La differenza è che allora c'era sensibilità, oggi non c'è più. E quindi tu dici «ma dal punto di vista culturale, inteso come percezione generale dei problemi» e stai andando indietro, ma io in questo sono convinto che è così. C'è troppo un riferirsi all'individuo. Che significa riferirsi all'individuo? Significa che tu vivi le tue sensazioni e sei prigioniero delle tue sensazioni, insomma. Delle tue regole, delle tue norme. Sì, sì. Quando andai in teologia, finita il liceo, si inizia la teologia, noi proponemmo ai prof questa cosa qua. Per diventare preti non si può fare una vita di collegio, perché il collegio non educa. Noi vogliamo fare una vita familiare autogestita e il seminario diventa un luogo dove veniamo a scuola, punto. Perché se no, e questo è un problema che rimane ancora, se tu vivi in collegio dove sei tutto servito, come fai a sviluppare una concezione realistica della vita? Soprattutto delle relazioni dove ti abitui a confrontarti, a vivere i conflitti, a vivere una vita garantita e diventa tutto troppo soft. Ah, ci dissero no, no. Noi questa cosa non la vogliamo. Allora non gli abbiamo detto bene, noi andiamo via tutti. La contrattazione si è modificata e ci hanno approvato per un anno. Purché non stessimo a Bologna, dicendo che il cardinale non voleva, ma in realtà secondo me era una cosa non vera. Allora abbiamo cominciato a cercare una diocesi che accettassero una proposta di questo genere. Siamo andati in giro, siamo arrivati anche a Modena, a Modena ci hanno detto sì, potete venire, allora siamo venuti. Andammo a lavorare, io andai ad Altedo, a raccogliere pere. E lì andammo in una casa che era senza acqua. Il fattore che era in rapporto con il padrone di questa grande proprietà, si impietosì, cominciava ad avere un affetto molto forte e ci portavano le damigiane piene d'acqua. Lavoravamo con la stessa, diciamo, tecnica velocità degli altri contadini. E infatti dicevo, voi non siete come gli altri studenti, cioè lavorate come noi. E quindi ci fu subito una... Ecco che voglio aprire una piccola parentesi per chi non lo sapesse, ma Giuliano ha una passione enorme per il verde. Questa è anche una testimonianza da dove arrivi tutto questo amore per la natura. L'idea era quella appunto dell'automantenimento, perché diciamo, i religiosi hanno il voto di puretà, castità e obbedienza. L'obbedienza non è obbedire a un superiore, ma intuire quali sono i bisogni delle persone e fare un progetto in risposta ai bisogni. Dal latino ob audire, obbedire dire al latino ob audire, che vuol dire ascoltare. Quando apriamo la comunità, venivano un sacco di giovani naturalmente, perché noi eravamo giovani, venivano lì e si parlava, si cantava fino magari anche a tardi e poi cominciavano ad arrivare delle famiglie con bisogni. Più avanti, tra le famiglie con bisogni, arrivarono famiglie che avevano un figlio tossicodipendente. E da lì è poi nata la storia del CEIS. Però se non ci fosse stata questa comunità con questa impostazione, il CEIS non sarebbe mai nato. È per questo che al CEIS non usiamo il termine utente. perché ha incontrato la situazione di fragilità, cioè la predisposizione a cogliere la persona a partire dal suo bisogno, non tanto dal... Non so cosa dire. Devo andare, devo cavare le patate. Ok. Allora, grazie Giuliano, grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti